erano spacciatori ma poiché disoccupati percepivano il reddito di cittadinanza ecco come vivevano due pusher di vittoria scoperti nelle scorse ore dalla guardia di finanza i carabinieri fanno luce sulla rissa dello scorso mese in piazza adacate un caso di violenza tra etnie diverse alcuni partecipanti hanno anche tentato di depistare le indagini se tutto andrà come annunciato il prossimo 19 aprile si voterà per l'elezione dell'organo direttivo dell'ex provincia e forse la parola fine a un commissariamento che dura da anni il palazzo degli studi di corso Umberto a Modica torna a ospitare la notte nazionale del liceo classico ieri la stessa edizione con tantissimi eventi fino a mezzanotte Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG 74 apriamo il telegiornale con un'ampia pagina di crona che iniziando da quanto scoperto nelle ultime ore dai uomini della guardia di finanza di Ragusa ovvero due pusher di vittoria che poiché disoccupati percepivano pensate anche il reddito di cittadinanza si guadagnavano ed anche bene da vivere spacciando cocaina nel mercato della droga ragusano ma per l'Inps almeno fino a qualche ora fa erano cittadini disoccupati come tanti altri e quindi idonei al fine di ottenere il reddito di cittadinanza un doppio ingresso economico, uno legale e uno certamente illegale che per quanto ingiusto possibile ai due spacciatori ha dato da vivere per un anno intero ovvero da quando lo scorso anno hanno fatto richiesta per l'ottenimento del sostegno economico poiché senza lavoro si tratta di due vittoriesi però recentemente terminati in un'articolata attività di controllo da parte degli uomini della guardia di finanza che li hanno sorpresi con circa mezzo etto di cocaina pronta per essere venduta nel mercato della droga ragusano l'attività nasce dall'esecuzione di quotidiani servizi di controllo economico nel territorio disposti dal comandante provinciale di Ragusa in particolare nella tarda sera del 7 gennaio a Ragusa i militari hanno fermato due vittoriesi a bordo di un'autovettura priva di copertura assicurativa e con al volante un pusher al quale era già stata ritirata la patente l'arrivo della finanza è stato per loro fatale dato che proprio in quel momento si stava consumando uno spaccio di droga tra i due pusher e un acquirente occasionale addosso a uno dei due le fiamme gialle hanno trovato circa 4 grammi di cocaina del valore di 250 euro poi nelle tasche di uno dei vittoriesi sono stati anche rinvenuti 590 euro in banconote di piccolo taglio quindi derivanti dall'attività di spaccio perquisizioni che si sono estese coinvolgendo anche le abitazioni dei due vittoriesi circa 43 grammi di cocaina sono stati quindi trovati nascosti all'interno di un beauty case in una cesta per la biancheria nonché 550 euro in contanti sempre nella stessa abitazione sono state recuperate 48 pasticche di sostanza utilizzata per il taglio della cocaina un bilancino di precisione e attrezzatura per il confezionamento della droga solo dopo diversi e più approfonditi accertamenti si è riusciti a rilevare che i fermati formalmente disoccupati percepivano dallo scorso anno il sostegno economico del reddito di cittadinanza sulla base delle indagini il principale indagato, l'uomo trovato con in casa la droga è stato posto agli arresti domiciliari mentre per il fiancheggiatore è scattata la denuncia a piede libero i fatti sono stati inoltre segnalati all'ufficio dell'Inps il quale ha già provveduto alla revoca del reddito di cittadinanza nei confronti di uno dei due beneficiari mentre per l'altro sono ancora in corso ulteriori accertamenti è ancora droga questa volta però tra giovanissimi e anche minorenni accade in molte piazze e luoghi d'aggregazione giovanili dove aumentano anche i controlli da parte dei carabinieri in totale nelle ultime ore un arresto, una denuncia e tre segnalazioni in prefentura Incessante l'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti svolta dalla compagnia e carabinieri di Ragusa e in particolare dal nucleo operativo e radiomobile in questi ultimi giorni controlli a tappeto sono stati effettuati nei luoghi di aggregazione dei giovanissimi e nelle piazze della giurisdizione per contrastare il sempre più dilagante fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe nella rete dei militari 5 giovani tra cui un minorenne il tutto è iniziato dal controllo di alcuni ragazzi ragusani trovati in possesso in circostanze e luoghi diversi di modici quantitativi di stupefacente un 19enne in possesso di una dose di hashish un 18enne di 3 grammi di marijuana ed un 17enne di una dose di marijuana tutti sono stati segnalati all'autorità prefettizia al 19enne che era alla guida di uno scooter è stata anche immediatamente ritirata la patente come previsto dalla legge in un'altra occasione i militari hanno fermato un'auto e si sono accorti del nervosismo mostrato dal passeggero a seguito di un controllo approfondito e una perquisizione personale il ventenne ragusano già noto alle forze di polizia è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana suddivisa in dosi e sicuramente destinata allo spaccio il ragazzo è stato quindi denunciato per detenzione e fini di spaccio di stupefacente il bottino però certamente più grande è stato infine quello trovato a un vittoriese 29enne con precedenti di polizia fermato alla guida della sua auto è trovato in possesso di 105 grammi di marijuana di altissima qualità come è stato certificato dalle analisi qualitative effettuate dall'aspir di Degusa il 29enne è stato arrestato per detenzione e fini di spaccio dello stupefacente e posto ai domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di Vittoria tutta la droga è stata sequestrata amministrativamente o penalmente come previsto dalle diverse procedure e sempre i carabinieri hanno anche fatto luce su una violenta rissa avvenuta in Piazza Libertà nel centro di Acate lo scorso mese di dicembre si tratta dell'ennesimo episodio di violenza tra cittadini di etnie diverse ma questa volta alcuni partecipanti hanno anche tentato di depistare le indagini Acate teatro di una violenta rissa tra una ventina di cittadini rumeni e immigrati che la sera del 15 dicembre 2019 nella Piazza Libertà con mazze e bastoni si sono malmenati con violenza procurandosi gravi ferite su tutto il corpo a denunciare i fatti ai carabinieri di Acate il mattino seguente alcuni partecipanti alla rissa che per via delle lesioni riportate sono stati costretti a far ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale Cuzzardi di Vittoria per depistare gli inquirenti hanno riferito di essere stati aggrediti in via del Carmele non in Piazza Libertà le indagini dei carabinieri della compagnia di Vittoria che hanno incrementato i servizi di controllo del territorio per ergenare un fenomeno oramai divenuto insostenibile l'ennesima rissa tra i cittadini di diverse etnie hanno permesso di scoprire che i denuncianti non erano stati aggrediti ma che essi stessi avevano partecipato alla rissa e si erano scontrati in Piazza Libertà infine per non farsi scoprire avevano ben pensato di dichiarare i carabinieri di essere stati aggrediti in via del Carmelo le terminanti per le indagini dei militari sono state le immagini riprese dal circuito di videosorveglianza cittadino che non ha lasciato alcun dubbio su quanto accaduto e sull'identità delle persone coinvolte compresi i denuncianti pertanto al termine degli accertamenti sono state deferite in stato di libertà alla procura della Repubblica nove persone di nazionalità rumena di età comprese tra i 16 e i 53 anni sono in atto ulteriori attività dei carabinieri della stazione di Acate volta l'identificazione di tutte le altre persone che hanno partecipato alla rissa e che saranno deferite all'autorità giudiziaria e ora lasciamo la cronaca per parlare delle ultime notizie arrivate da Palermo in merito alle prossime elezioni per l'ex provincia e quindi anche per il libero consorzio comunale di Ragusa se l'iter non subirà intoppi così come è accaduto lo scorso anno si voterà il prossimo 19 aprile sentite ci sono voluti oltre dieci anni ma finalmente le città metropolitane e i liberi consorzi ovvero le ex province potranno tornare ad avere organismi legittimamente eletti dopo anni di commissariamento se tutto procederà così come è dichiarato si svolgeranno infatti il 19 aprile le elezioni per le ex province siciliane lo ha deciso il governo musumeci in attuazione della legge regionale dell'agosto 2019 che aveva individuato il periodo utile tra il primo e il 30 aprile di quest'anno si tratta di elezioni di secondo livello e quindi saranno chiamati alle urne tutti i sindaci e consiglieri dei 390 comuni dell'isola nei cosiddetti enti di aria vasta la gestione commissariale durava da oltre dieci anni ovvero da quando con un colpo di mano vennero abrogate le province senza però pensare alle conseguenze né organizzare la gestione delle materie ad esse demandate certamente si ricorderà che una prima elezione era già stata fissata il 30 giugno dello scorso anno ma poi venne rinviata in territorio ibleo si procederà quindi all'elezione del nuovo presidente del libero consorzio comunale ed i 12 consiglieri provinciali si voterà solo nella giornata di domenica 19 aprile e gli aventi diritto al voto in provincia di ragusa sono circa 160 ovvero i sindaci e i consiglieri comunali degli 11 comuni blei vittoria non va al voto perché attualmente è retta da una commissione straordinaria in quanto il comune è sciolto per mafia sempre lo scorso anno si erano già ufficialmente candidati i sindaci di ragusa pepe cassì modica ignazio abate e infine anche cicli con enzo giannone nome di un cartello politico di centro-sinistra che si rifà al movimento fondato in provincia dai sindaci di Pozzallo Chiara Montegulfi e Scicli nelle tre città metropolitane di Palermo Catania e Messina verranno eletti solo i consigli in quanto il sindaco coincide di diritto con il primo cittadino del comune capoluogo nei sei liberi consorsi le elezioni riguarderanno presidenti e consigli accogliamo positivamente la notizia relativa alla indizione delle elezioni di secondo livello per il prossimo 19 aprile affermano Leo Luca Orlando e Mario Emanuele Alvano presidente e segretario generale dell'Anci Sicilia in quanto riteniamo che si possa dare finalmente voce ai territori ponendo fine a uno stato di incertezza che va avanti da troppo tempo il circolo di lega ambiente di Pozzallo si autoscioglie perché in netto disaccordo con le posizioni dell'associazione ambientalista sulla vicenda dell'impianto di biometano autorizzato in contrada Bellamagna si tratta di una decisione drastica che trova rari esempi su scala nazionale sicuramente sofferta ma che dà la misura esatta dei timori dell'intera comunità pozzallese rispetto alla realizzazione dell'impianto alle porte della città marinara i rappresentanti del circolo hanno sempre provato a mediare tra le posizioni della comunità pozzallese la sezione regionale di lega ambiente favorevole all'iniziativa della biometano Ibleo la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stata rappresentata dall'incontro tra i vertici provinciali e regionali dell'associazione ambientalista con i referenti dell'azienda che ha proposto l'impianto lega ambiente è stata così l'accusa preferisce incontrare gli imprenditori e non i cittadini per questo la spaccatura che ha portato allo scioglimento del circolo pozzallese ricordato questa mattina a donna lucata il 26esimo anniversario dell'ecidio dei carabinieri Fava e Garofalo presenti oltre i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Scicli anche le forze dell'ordine con in testa il comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Gainelli guardate l'amministrazione comunale di Scicli in occasione del 26esimo anniversario dell'ecidio dei carabinieri Antonio Fava e Vincenzo Garofalo ha organizzato una cerimonia commemorativa a donna lucata con un momento di preghiera presieduto dal sacerdote don Armando Fidone nello spazio antistante della chiesa Santa Caterina da Siena a seguire la deposizione di una corona dall'oro sul monumento dedicato ai due militi la città di Scicli così ricorda l'ecidio dei due appuntati avvenuto proprio la sera del 18 gennaio del 1994 Fava e Garofalo entrambi in servizio al norre aliquota radiomobile della compagnia di Palmi mentre percorrevano l'autostrada a due Salerno Reggio Calabria in direzione sud furono crivellati dai colpi d'arma da fuoco esplosi dai conducenti di un'auto a cui avevano intimato l'alt in seguito si scoprì che gli autori del delitto erano uomini appartenenti a Cosa Nostra e all'Andrangheta Calabrese presenti questa mattina rappresentanti delle forze dell'ordine il sindaco di Scicli Enzo Giannone che si è soffermato sul significato della commemorazione ricordare Vincenzo Garofalo è un dovere per questa città un dovere morale un dovere morale perché a distanza di 26 anni il sacrificio che lui ha fatto della propria esistenza per i valori dello Stato è ancora un fulgido esempio di virtù civili che tutti noi dobbiamo tenere sempre presenti e dobbiamo avere la forza di attualizzare il messaggio e il significato del sacrificio di Vincenzo a intervenire alla cerimonia anche il comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Gainelli che ha anche comunicato che è stata consegnata la medaglia d'oro alla memoria ai due militari dell'arma i Carabinieri li ha puntati Vincenzo Garofalo e Antonino Fava a Vincenzo Garofalo è intitolato il monumento la piazza ma ad Antonino Fava suo collega in servizio e anche nel tragico fatto è dedicata la via qui a fianco li abbiamo ricordati oggi come da 26 anni a questa parte è una memoria che non può essere tralasciata è un fatto che non può essere dimenticato perché è una testimonianza di un estremo sacrificio in onore dei valori a cui credono tutti i Carabinieri e per i quali hanno prestato giuramento ben consapevoli che questa scelta li può portare come ha portato Garofalo e Fava all'estremo sacrificio ed è a questo estremo sacrificio che dobbiamo rendere onore col nostro servizio ma soprattutto nella data della ricorrenza eroica e ora a Modica dove anche quest'anno il Palazzo degli Studi di Corso Umberto ha ospitato una serie di eventi dalle 18 alle 24 in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico ieri la sesta edizione c'eravamo anche noi Cala il sipario sulla Notte Nazionale del Liceo Classico uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni già arrivata la sua sesta edizione nata da un'idea del professore Rocco Schembra docente di latino e di greco al Liceo Classico Guglie Pennisi di Acireale sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione in partenariato con Rai Cultura e Rai Scuola quest'anno è stata celebrata dalle 18 fino a mezzanotte in oltre 430 licei classici italiani compreso il Galilei Campailla di Modica un momento importante per i nostri giovani e per la riscoperta anche per tutta la nostra città della cultura classica un momento importante per i nostri ragazzi perché mettono in atto tante cose studiate sui libri di scuola che vengono rappresentate proprio e poi un momento importante perché appunto il liceo classico è un liceo che forma a 360 gradi i nostri ragazzi non soltanto sulla cultura classica e che permette loro di arrivare a dei traguardi che sicuramente non sono comuni a tutti al Palazzo degli Studi la serata dal tema eroe ed eroine di ieri e di oggi è stata coordinata ancora una volta dall'associazione Amici del Campailla in collaborazione con la sezione modicana di Libera e Proxima un evento con ospiti e con un programma ricco e variegato e che ha visto la partecipazione attiva di studenti e docenti noi nel nostro piccolo grande liceo come è stato da sempre definito abbiamo organizzato tutta una serie di eventi attorno ad una tematica principale eroi ed eroine di ieri e di oggi siamo partiti da Ulisse per arrivare ad una Penelope moderna una Penelope che lascia il marito a casa e va a fare volontariato e quindi questo diciamo è uno spunto che abbiamo voluto dare per tutti quanti gli intervenuti cioè di riflettere appunto su questo come oggi tutti dobbiamo essere eroici e concludo con questo piccolo appello che è degli amici del Campailla anche il nostro tentativo di salvaguardare il Palazzo degli Studi per noi è un atto eroico gli eroi ormai possono essere chiunque nella vita di tutti i giorni non dobbiamo per forza pensare agli eroi greci o latini un eroe per esempio dei nostri tempi possiamo considerare Giulio Reggeni che purtroppo non è più tra noi e per lui ha difeso i diritti umani è stato ucciso un eroe e un altro eroe sono Falcone e Borsellino che si sono battuti per liberare il mondo dalle mafie e proprio la gente per farli tacere e li ha uccisi noi oggi abbiamo partecipato con un laboratorio un laboratorio di Greco che prevedeva l'analisi delle tragedie greche dei tre tragediografi greci questo evento credo sia un evento importantissimo per la diffusione di quelle materie umanistiche letterarie che in questi periodi stanno venendo sempre stanno sempre più scomparendo si sta privilegiando le materie più scientifiche più politiche continuano le sezioni di brainstorming organizzate dal GAL Terra Barocca in territorio Ibreo 5 i comuni interessati tra questi anche quello di Ragusa obiettivo incentivare i servizi turistici al castello di Donna Fugate a Ragusa Ibla sentite anche a Ragusa dopo Modica Ispica e Santa Croce Camerina si è svolta una sessione di brainstorming promossa dal GAL Terra Barocca per avviare il confronto sull'idea progettuale proposta dal comune di Ragusa che come gli altri comuni appartenenti al GAL presente anche Scicli dove ieri si è svolta l'ultima tappa aderita al bando 7.5 per il miglioramento dei servizi turistici sul territorio attraverso un investimento complessivo di un milione di euro nell'ambito i rappresentanti delle varie famiglie professionali invitati all'incontro hanno avuto modo di analizzare l'ipotesi progettuale presentata e illustrata dal sindaco Peppe Cassì dal vice sindaco Giovanna di Citra ed alcuni tecnici comunali che riguardano il potenziamento dei servizi turistici al castello di Donnofugate a Ragusaibla come già avvenuto nei precedenti incontri è stata cambiata la logica di analisi avviando il confronto dal basso attraverso i vari gruppi di lavoro chiamati ad individuare i punti di forza le criticità le opportunità e miglioramenti con questi fondi i comuni andranno a creare piccole strutture per l'accoglienza turistica o potranno ristrutturare i mobili pubblici da destinare servizi a attività collettive turistiche artistiche e culturali educative e naturalistiche il contributo è erogato al 100% a fondo perduto la gestione sarà obbligatoriamente affidata ai privati che potranno incrementare i servizi accessori il progetto globale il GAL opera in questa direzione sono finanziamenti europei e sappiamo che purtroppo ormai l'unico modo per progettare realizzare qualcosa che serva allo sviluppo di un territorio bisogna fare affidamento su denari che vengono non dal territorio perché tutti quelli che vengono dal territorio stesso sono già ampiamente impegnati nei costi di gestione ordinari quindi benvengono queste iniziative il GAL opera attraverso la sinergia di più enti territoriali che ricadono nello stesso territorio e questo è qualcosa di estremamente importante il territorio visto nel suo insieme non come singole entità separate una dall'altra quindi uno sblocco diciamo una possibilità di sviluppo che non può non passare da una comunione di intenti da una condivisione di strategie al di là del fatto che un'idea progettuale sia stata in linea di massima individuata crediamo che la condivisione quindi la compartecipazione del cittadino fosse esso semplice cittadino anche persona giuridico associazione può dare sicuramente dei suggerimenti può dare delle idee creative che magari possono anche servire a rendere più sostenibile l'idea che stiamo mettendo in atto con l'investimento del bando della sottomisura 7-5 l'intento ovviamente è in coerenza anche con le altre iniziative degli altri quattro comuni del GAL creare una maggiore attrattività del turismo investendo sull'accessibilità sulla salvaguardia dei beni ma soprattutto creando un circuito che all'interno del quale il turista ma io direi anche il cittadino può muoversi in maniera più informata in maniera più facile e prima di chiudere ancora una notizia Ragusa è stata inserita ed ha anche aderito al primo rapporto delle città di medie dimensioni redatto dall'associazione Mecenate 90 presentato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella secondo il primo cittadino di Ragusa Peppe Cassi si tratta di un onore allo stesso tempo di una occasione di analisi e approfondimento delle convergenze e delle peculiarità che toccano comunità diverse ma simili in tutta Italia in un momento storico come l'attuale afferma Cassi i comuni sono il vero fulcro dell'amministrazione l'anello tra politiche e cittadine e quindi è necessario confrontarsi e fare rete Ragusa appartiene a questa rete e fa la sua parte bene questo è tutto non ci sono aggiornamenti quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti